Buonasera a tutti da Arbolestria Simbiosis. Questa sera vi vogliamo presentare una pianta meravigliosa, la Bursera Graveones, umanemente chiamata Paolo Santo per le sue molteplici proprietà. Questa pianta, che cresce spontanea nella zona dell'Equodra del Perù, dopo la sua morte naturale che avviene all'incirca dopo 90 anni, viene lasciata sul terreno dai 4 ai 10 anni, tempo necessario, alla maturazione del suo legno e alla produzione di questo meraviglioso olio essenziale. Come usarla? È semplicissimo, basta accendere il legno. Il legnetto, il fuoco, andrà a rompere le pareti dell'almina, liberando questo meraviglioso olio essenziale. Abbiamo questo profumo, copre tutti gli odori in casa, è un profumo comunque naturale per il nostro ambiente, fastidioso per gli insetti, quindi è in grado di allontanarli, ed è il classico prodotto usato per la meditazione, per il ritrovamento di un equilibrio psicofisico, è comunque piacevole. Grazie a tutti da Erboresteria e Sendiosis. Buonasera.